Attesa per tanto tempo, mesi, addirittura anni, è arrivata la nuova illuminazione in piazza Beltrami, che però ha fatto subito discutere. In tanti hanno un po' storto il naso guardando questi nuovi pari che sono stati posizionati. Sindaco, cosa si può fare? Cosa succederà adesso? Allora, avevo fatto una premessa. La premessa è che questo progetto è un progetto che noi abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione, quindi amministrazione Mellano, Assessore dei lavori pubblici Pesce. Noi questo l'abbiamo ereditato, è stato elaborato a seguito di un concorso di idee che ha vinto il progetto che in questo momento si sta realizzando. Quindi noi non abbiamo fatto altro che realizzare quello che c'era stato lasciato, senza poterlo modificare in nulla, perché è già dotato di tutte le autorizzazioni, della Commissione del Paesaggio, della Sovrintendenza, eccetera. Quindi questa premessa è doverosa perché poi il giudizio estetico sui nuovi pali evidentemente ha creato qualche problema, anche se gli assessori competenti sono già intervenuti e si sta già lavorando per spostare alcuni pali e vedere insomma di ridurre l'impatto del palo particolarmente moderno con quella che è la Collegiata e con quello che è la piazza, diciamo così, il Battistero, che sono invece dei monumenti che quindi devono essere adeguatamente valorizzati. Anche perché i fedeli non sono contentissimi, no? No, ma questo può essere, diciamo così, esteticamente, cioè come dire, riguarda il gusto delle persone. La scelta progettuale è andata a modificare i lampioni verso una scelta, diciamo, di tipo moderno. La cosa lascia un po' perplesso anche me. Con l'assessore Strada e con i consiglieri Buzio e Ruschetti siamo già scesi in campo per vedere di spostare alcuni pali. Uno in particolare che va a interrompere un arco del Battistero e quindi lavorare per sistemare insomma quello che si può sistemare. Tenendo presente che essendo, come diceva, un progetto della vecchia amministrazione finanziato e con uso di soldi pubblici, evidentemente non si può buttare i pali a mare. Quindi faremo in modo di ridurre l'impatto nelle vicinanze dei monumenti e quindi di posizionarli in modo adeguato.